C'è una ragione specifica per la quale queste attività si stanno svolgendo qui in questa scuola di Albani-Roccella? Diciamo che ogni anno le scuole debbono fare dell'esercitazione di evacuazione e simulando un incidente che può essere un incendio o un terremoto i ragazzi vengono allontanati secondo un piano di evacuazione della scuola dentro le aree di attesa che sono una a sud in questo caso e una a nord nello specifico nell'ambito del piano di protezione civile nostro comunale questo edificio scolastico è anche area di accoglienza al coperto significa che in caso di sisma se ci sono delle famiglie che non possono rientrare per le motivazioni che possiamo così intuire che nella propria casa vengono ospitati temporaneamente per una settimana, due settimane, un mese perché questo edificio è stato realizzato a norma simica quindi in caso di terremoto resisterà più di qualche altro edificio magari che non ha quelle condizioni, quelle caratteristiche Siccome non tutti da casa sanno che questo edificio sarebbe punto di raccolta e di accoglienza possiamo dirlo in caso di calamità naturale tanto grave da dover essere necessario appunto istituire e allestire ad esempio un accampamento per i primi soccorsi tutti coloro i quali dovessero trovarsi in difficoltà possono, anzi devono recarsi in questa scuola Allora in un primo momento tutti debbono raggiungere le aree di attesa che nel nostro piano di protezione civile sono le principali piazze dopodiché aree di attesa significa che debbono stare lì un paio di ore, due ore, tre ore poi l'amministrazione dei soccorsi decideranno chi può essere ospitato in questo edificio che è strutturalmente idoneo per ospitare persone quindi anche nel nostro piano noi abbiamo che questo edificio è area di accoglienza Allora la prima cosa che debbono fare i cittadini innanzitutto sapere qual è l'area di attesa più vicina all'edificio raggiunge e questo lo possono fare venendo da noi alla protezione civile comunale e siamo a disposizione per indicare nel nostro piano quali sono le aree di attesa vicine dopodiché i soccorsi decideranno di portare le persone o in questo edificio o farli rientrare a casa che bacane la casa è in condizione di poter ospitare di nuovo i proprietari grazie grazie grazie